Come possiamo proteggerci dai manipolatori affettivi, siano essi narcisisti, psicopatici o borderline? Riconoscendo il loro linguaggio, che ha delle caratteristiche. I manipolatori mentono e le loro bugie si basano su strategie ben precise. Sono menzogne che nascono da sofisticate tecniche di raggiro. Per proteggerci dobbiamo saperle riconoscere. Il manipolatore, uomo o donna che sia, si insinua nella vita della vittima attraverso una rete di bugie ben camuffate dal fascino e dalla maestria con cui queste persone raccontano assurdità, in maniera talmente convincente che la vittima ci crede. Una tecnica ben nota al manipolatore è quella di distrarre la vittima dal contenuto del discorso. Come lo fa? Lo fa toccandola. Ad esempio, mentre loro parlano, le accarezzano i capelli, la baciano, le prendono la mano e intanto raccontano bugie. Il linguaggio del manipolatore si riconosce perché fa spesso ricorso ad analogie e metafore che vengono abilmente usate per indurre l'altro a calpestare i propri principi etici. Quindi il manipolatore inciterà la vittima, ad esempio a tradire il marito o la moglie, e lo farà usando similitudini e metafore improprie che non stanno in piedi. Sono paragoni forzati che alla base hanno degli errori logici, ma la vittima non se ne accorge perché si lascia distrarre dalla bellezza dell'immagine metaforica. Inoltre il linguaggio tipico del manipolatore è denigratorio verso gli altri in genere. Gli altri sono sempre colpevoli e per incolparli di ogni cosa il manipolatore, come si suol dire, rigira la frittata e lo fa usando giri di parole, cioè passando da un argomento all'altro. Perciò il suo eloquio risulterà confusionario, non segue un binario stabile e coerente, ma deraglia continuamente facendo fare al discorso un giro perverso e tortuoso. Se gli fate una domanda diretta è probabile che il manipolatore risponderà facendo metacomunicazione, cioè non rispondendo direttamente, ma commentando il vostro tono di voce, per esempio, e vi dirà che avete un tono di voce sexy. Ed intanto evita di rispondere alla domanda diretta. Questo è uno stratagemma che getta fumo negli occhi della vittima e svia il discorso. È un maestro nello sviare, nell'essere vago e rispondere in maniera generica, cioè generalizza, usando luoghi comuni o proverbi in maniera impropria. Il manipolatore evita sistematicamente di rispondere alle domande dirette su di lui o riguardo a come la pensa su una determinata questione. Poi tipicamente se lo accusate vi dirà che lo state incolpando di cose che fanno tutti. Dirà una frase fatta del tipo nessuno è perfetto, tutti noi abbiamo dei difetti, sottovalutando e sminuendo la gravità dell'accusa che gli state muovendo. L'arte di ingannare è ben nota al manipolatore che sa come arricchire di dettagli e di particolari la sua visione per renderla credibile, mettendo su un vero e proprio teatrino. Non gli manca certo la fantasia, sa improvvisare inventando falsità di ogni tipo. Queste invenzioni però hanno la caratteristica di un gioco. Il manipolatore in realtà sta giocando con le emozioni della vittima che è dipendente vulnerabile quindi facilmente raggirabile. Perciò tenderà a credere ad ogni cosa. Per il manipolatore imbrogliare è un gioco divertente e un'altra caratteristica di questo gioco è quello di fare apparire tutti gli altri come nemici. I protagonisti del gioco vengono messi l'uno contro l'altro, sono tutti dei bugiardi o cattivi e vanno evitati. Per raggiungere questo scopo il manipolatore usa le mezze verità, distorce la verità e lo fa anche per proteggersi dall'essere svascherato. Ha sempre un piano B, quindi vuole gestire controllare la situazione. I manipolatori vivono di bugie e non hanno rimorsi, non si assumono nessuna colpa, la scaricano sugli altri. Se vengono colti con le mani nella marmellata e ad esempio vengono scoperti a tradire diranno semplicemente che sanno di aver sbagliato, quindi sminuiscono l'accaduto. Aggiungeranno che non amano l'altra donna o l'altro uomo e prometteranno di non farlo più, ma l'unica cosa vera è che non amano l'altra persona. Ecco come verità e menzogna si mescolano. In realtà il manipolatore pensa che la vittima si meriti tutte queste bugie, pensa che se le si è cercata. Insomma, la vita del manipolatore è piena di colpi bassi verso la vittima, è piena di atteggiamenti intimidatori, denigratori, di ricatti, di minacce, di svalutazioni continue senza alcun pentimento. Il manipolatore tradisce e abbandona senza alcun rimorso e prova gusto a danneggiare gli altri. Questa è l'unica logica del suo gioco perverso. Il concetto di perversione può essere facilmente espresso facendo ricorso alla geometria. In geometria il percorso più breve che collega due punti è un segmento di linea retta. Bene, i manipolatori, soprattutto gli psicopatici, non conoscono linee rette nella vita e scelgono sempre percorsi complicati, complicati come il loro linguaggio, che devia e raggira la vittima. Come abbiamo detto, usando giri di parole, confondendo, sviando, perché questo è il loro gioco, in quanto inseguire una meta li eccita molto di più che raggiungerla. Infatti, una volta conquistata la loro preda, la masticano e la sputano per poi abbandonarla. In quanto perdono ogni stimolo, si stufano e quindi la scartano. Il manipolatore vuole sedurre l'altro, non esserne il compagno o la compagna fedele. Allo stesso modo vuole ottenere un lavoro, non vuole fare carriera. Vuole mettere incinta la moglie, non costruire una famiglia sana e magari fare il padre o la madre a vita. Il suo unico scopo è la soddisfazione immediata del piacere. Non gli interessa il prezzo da pagare per questo desiderio. Ecco l'egoismo, l'egocentrismo patologico, che sfocia nell'incapacità di amare. Ma queste persone si presentano come amorevoli, sono premurose, piene di attenzioni. Però le loro attenzioni sono prive di un vero sentimento, sono gesti meccanici. Così come la sessualità del manipolatore è meccanica e muscolare, dunque è vuota, è priva di un genuino coinvolgimento affettivo. E allo stesso modo anche il linguaggio è teatrale, è un linguaggio seduttorio, roboante, ma povero sul piano emotivo. Le emozioni del manipolatore si chiamano proto-emozioni. Sono emozioni brevi e intense, come l'ira, l'entusiasmo esagerato, che però mostra una forzatura espressiva. Lo sforzo di manifestare qualcosa che esplode in quel momento e poi svanisce, come può essere una ripicca veloce e improvvisa, o come può essere un lampo di affetto, oppure il risentimento stizzoso. Questi sono tutti atteggiamenti di un repertorio emotivo caratteristico. Ma l'emozione matura e coerente non c'è, l'emozione profonda e autentica non c'è, c'è solo la maschera, la facciata. Ecco perché i manipolatori non si stressano più di tanto, nulla è in grado di turbarli, anche se vanno in carcere finiscono per manipolare il compagno di cella, come niente fosse. Sono emotivamente aridi, usano le parole per ferire e negano l'evidenza, convincendo l'altro che ha capito male, ha interpretato male, ha frainteso, e in questo modo destabilizzano il sistema percettivo della vittima, che inizia a mettere in dubbio se stessa e le sue capacità critiche, finché finisce per autoingannarsi e quindi negherà ciò che accade pur di salvare la relazione, quindi mette in discussione se stessa. Ma questo è proprio lo scopo del manipolatore, che si diverte a minare la sicurezza e l'autostima della vittima, nutrendosi proprio della sua paura di vedere svanire la relazione di coppia. Il manipolatore fa leva su questa paura. Perciò la migliore tecnica per argirare un manipolatore narcisista o psicopatico che sia uomo o donna, overt o covert, qual è? È mostrarsi indifferenti, privi di entusiasmo, mostrarsi spenti come morti. Allora non saremo appetibili e il manipolatore andrà oltre. Bisogna però riconoscere i primi campanelli d'allarme, come ho spiegato in altri video dedicati alla manipolazione o al narcisismo o alla psicopatia, che vi suggerisco di vedere. Bene, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video sui vari argomenti di psicologia, dal narcisismo alla dipendenza affettiva, dalla manipolazione all'ansia agli attacchi di panico, video su come realizzare voi stessi, su come uscire dalla depressione, su come interpretare i sogni e comprendere meglio il proprio mondo interiore. Se vi iscrivete al canale youtube verrete informati sulla pubblicazione dei nuovi video. Potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia. In entrambi ogni post è pubblico quindi non serve chiedermi l'amicizia. Inoltre ho un sito che è www.robertoruga.it dove troverete esercizi di rilassamento, fantasie guidate, pubblicazioni tra cui un libro ed infine vi informo che faccio consulenza psicologica online con la videochiamata su skype o su whatsapp oppure semplicemente consulenze telefoniche telefoniche. Quindi potete contattarmi sul numero che compare sotto la descrizione del video oppure potete scrivermi a r.ruga-virgilio.it. Buona giornata e in bocca al lupo!